Oltre al mercato SEDEX di Borsa Italiana, in cui i certificati sono negoziati dalle 9.05 alle 17.30, i certificati possono essere negoziati anche sul segmento CertX di Euro TLX, sempre dalle 9.05 alle 17.30. Il mercato di TLX è un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali. Il mercato offre la possibilità di negoziare un'estesa gamma di strumenti finanziari con un elevato grado di trasparenza sui prezzi e sulle informazioni pre e post trading. Questo significa che grazie alle informative titolo, liberamente scaricabili, nella sezione di Investor Education e alla completa informativa pre e post trade vi sono le condizioni per effettuare un investimento consapevole. Il sito www.rtlx.com mette a disposizione degli utenti le seguenti informazioni utili per un investimento consapevole. L'informativa titolo per ogni obbligazione e per ogni certificato, con specificato il codice ISI, la descrizione dello strumento, la data di scadenza, la divisa di negoziazione, il primo livello del book in denaro in lettera, il prezzo dell'ultimo contratto scambiato, le caratteristiche dell'emissione, il grafico relativo all'andamento degli ultimi tre mesi ed eventuali comunicazioni di mercato. Il rating dello strumento è presente anche nella pop-up che si apre cliccando sull'ISIN del singolo titolo. Le due lettere poste accanto al rating identificano EM il rating dell'emittente, GA il rating del garante. Sia in home page che nella sezione statistiche viene data evidenza ai titoli più scambiati da giornata. Il mercato, lanciato nel 2000 da Unicredit, dal 2006 vede come unici azionisti con il 50% ciascuno Unicredit e Banca Imi del gruppo Intesa San Paolo. I due azionisti di TLX sono anche market maker, per cui la liquidità sui titoli è sempre garantita. È ovvio che se di un titolo se ne scambiano volume bassissimi, il market maker trova vantaggio garantirne l'acquidità solo spuntando uno spread più alto denaro lettera, ma non è una regola fissa. Nel 2009, BNL gruppo BNP Paribas è diventato il primo market maker non socio su Euro TLX. Certi X del segmento di Euro TLX dedicato in certifiche di investimento è stato creato in ottobre 2008 per permettere agli investitori di sfruttare la liquidità di questo mercato, anche per i certificati. Da allora a oggi, il numero di strumenti scambiati su CertiX è cresciuto a ritmi sostenuti, grazie alla loro sempre più ampia diffusione tra la clientela retail. Proprio per questo motivo si è voluto privilegiare l'informazione relativa al rischio sul capitale investito da parte dell'investitore privato e adottare una classificazione in quattro macro-categorie, tenendo di fatto conto della mappa dei certificati della CEPI, che è l'associazione italiana certificati e prodotti di investimento. Le quattro macro-categorie sono capitale protetto garantito, capitale parzialmente protetto, capitale non protetto e a leva. La classificazione adottata da Euro TLX sottolinea il carattere retail del mercato, privilegiando l'informazione relativa al grado di rischio sul capitale investito da parte dell'investitore privato. Per tutelare il piccolo investitore nel regolamento di emissione di Coverage Warrants Certificates è previsto l'esercizio automatico a scadenza per gli strumenti indemonei, senza che l'investitore debba fare nulla. Inoltre, in occasione di eventi di natura straordinaria, come ad esempio gli aumenti di capitale, vanno apportate le opportune rettifiche che devono tendere a minimizzare l'effetto distorsivo dell'evento sul prezzo degli strumenti finanziari. Chi volesse approfondire la natura e il funzionamento degli aumenti di capitale e saperne di più sui fattori di rettifiche che intervengono in occasione di queste operazioni straordinarie, si registra il sito www.gbinvesting.com per poter accedere ad alcuni video gratuiti relative alle operazioni straordinarie nella sezione dedicata agli aumenti di capitale. A livello di regolamenti e normative, ritengo che sia il SEDEX che il CertX siano mercati sufficientemente regolamentati ed hanno regole comuni. Occorre conoscerli entrambi in quanto non sappiamo se il certificato adatto a noi sia quotato su questo o quel mercato. La differenza più evidente tra i due mercati è che sul SEDEX hanno introdotto una regola nuova che in assenza del market maker non è possibile inserire ordini. In tal modo il risparmiatore è più tutelato e difficilmente può sbagliare comprando ad un prezzo troppo alto o vendendo a un prezzo troppo basso. Sul CertX, invece, anche nei momenti di assenza del market maker possono avvenire scambi anche a prezzi molto diversi dal vero valore di mercato del certificato per cui occorre fare molta attenzione. I broker più conosciuti offrono entrambi i mercati. Una volta che si ha il codice dello strumento lo si può negoziare tranquillamente senza il bisogno di sapere che il mercato di riferimento dello strumento sia il SEDEX o il CertX. Grazie. Grazie. Grazie.